Ciao, rispondo a una domanda che mi è stata posta interessante, mi fa capire alcune cose, sul mio sito www.rivettivalter.com e da questo ne trago che io sono Rivetti Walter, con la W, e che devi andare sul mio sito magari per guardare qualche cosina, qualche articolo, qualche approfondimento. La domanda è, ciao, senti, come faccio a diventare un direttore di doppiaggio? C'è qualche scuola? C'è qualche... sì, scuola, diciamo. C'è qualche corso? Ecco. Allora, il corso e la scuola sono quelli dello studio di doppiaggio, nel senso che è come lavorare sul campo, diventare generali sul campo. Non c'è una scuola che ti insegni, guarda, adesso ti insegno come si diventa direttore di doppiaggio. Essere direttore di doppiaggio è davvero un compito, è un ruolo difficile, perché da contratto già devi fare molte cose, alcune te le leggo, oltre prendere visione preventiva dell'opera, comunicare all'impresa la proposta di distribuzione, distribuzione delle voci. Il direttore dice, ok, per questo personaggio ho scelto quel doppiatore, per quell'altro scelgo Walter Rivetti. Grazie. Prendere visione del copione adattato, quindi collaborazione con l'adattatore dialoghista. Partecipare ai turni di doppiaggio, coordinare il corretto svolgimento in base a quanto previsto dal presente contratto. Sto leggendo il contratto nazionale del doppiaggio. Prendere visione del piano di lavorazione, dell'esercizio, delle sue prerogative. Lo approva o suggerisce all'assistente eventuali modifiche. Indica all'impresa eventuali problemi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della lavorazione. Questo davvero ha grandi linee. Il lavoro davvero duro, difficile del direttore di doppiaggio è quello artistico. E' quello di capire e dirigere, indirizzare, è un direttore, deve dirigere, gli attori, i doppiatori recitativamente in una direzione particolare che è quella che voleva il regista. Quindi deve avere una grande sensibilità attoriale. Perciò deve essere un doppiatore, deve essere stato un doppiatore. Ci sono anche alcuni casi di direttori di doppiaggio che non sono dei doppiatori, ma comunque hanno vissuto sempre all'interno del business del doppiaggio. Magari sono assistenti, erano assistenti di doppiaggio e sono diventati dei direttori oppure altre figure che magari arrivano dal teatro, ma sono davvero molto poche. Solitamente l'iter è quello di un doppiatore che diventa direttore di doppiaggio. Ti ho detto, deve capire la recitazione nel suo insieme, saperla distribuire sui vari personaggi. E secondo me la cosa che io, almeno come direttore di doppiaggio, trovo un po' complicata è proprio la gestione umana dei doppiatori. Già gli umani, voi umani in generale siete strani, voi umani, però voi umani attori siete ancora un po' più stranini. Perciò riuscire a gestire alle volte i caratteri, l'estro, la creatività, indirizzarla, alle volte riuscire a guidarla, senza comunque stravolgere le caratteristiche dell'attore, che in questo momento è il microfono, non è assolutamente facile. Puoi diventare un direttore di doppiaggio? Sì, però devi fare tutti i vari scalini, lavorare sul campo, più che sul campo, in sala di doppiaggio, e poi diventare direttore di doppiaggio si può fare. Hai visto quindi che non è una cosa istantanea e immediata. Non è come alcune scuole dove dicono ti insegniamo la scuola per diventare il regista. Ok, sì, magari in teoria, però poi dopo c'è parecchio sul campo. Spero di aver risposto alla tua domanda, alle domande che mi sono giunte sul sito di questo tenore, e se vuoi scoprire altre curiosità sul mondo del doppiaggio, della voce e dell'adattamento ai dialoghi, ripeto, guarda qua sotto, c'è il link al mio sito, o guarda un po' curiosa sul mio canale. Ciao, alla prossima!